La situazione di grave disagio vissuta dal personale del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore ha raggiunto un punto critico a causa del mancato pagamento delle ore di straordinario accumulate dagli operatori. Lo riferisce Fialz. Nonostante le ripetute sollecitazioni e gli impegni presi dall'unità di gestione delle risorse umane, l'organizzazione sindacale segnala nuovamente un comportamento arbitrario e soprattutto irrispettoso nei confronti di quegli operatori che con grande dedizione e sacrificio svolgono lavoro straordinario per garantire i livelli essenziali di assistenza data la carenza di personale. La segreteria Fialz di Salerno, attraverso il segretario generale Carlo Lopopolo, esprime una forte preoccupazione per la situazione. È inaccettabile, dice Lopopolo, che gli operatori sanitari, che con grande sacrificio garantiscono il funzionamento dell'ospedale in un contesto di carenza cronica di personale, non vedano riconosciuto il loro diritto al pagamento del lavoro straordinario. Questo atteggiamento arbitrario mina non solo i diritti dei lavoratori, ma anche il morale e la motivazione del personale, che ogni giorno si trova ad affrontare enormi difficoltà. La segreteria aziendale Fialz, rappresentata da Alfonso Napoletano, Marco Mascolo, Gianluca Fasolino, Paolino Raimundo, Rosario Fabbricatore, Mario Russo, Francesco Villani, Gerardo Spada, Giovanni Palmentieri ed Anna Lamberti, sottolinea la gravità del problema. Non possiamo accettare, dicono, che il sacrificio dei lavoratori venga ignorato in questo modo. Non si tratta solo di una questione di diritti contrattuali, ma di rispetto per chi si impegna ogni giorno a garantire i livelli essenziali di assistenza. A peggiorare la situazione c'è una recente sentenza della Cassazione che ha stabilito che il lavoro straordinario deve essere pagato anche in assenza di un'autorizzazione formale, affermando chiaramente che il mancato rispetto delle normative sulla spesa pubblica non può ricadere sui dipendenti. Questa sentenza, continuato lo popolo, rappresenta una vittoria importante per i lavoratori pubblici, ma non c'era inferiore e ci troviamo di fronte ad una palese violazione di tali diritti. La Fialz provinciale ha richiesto un immediato riscontro entro sette giorni, riservandosi il diritto di ricorrere alla magistratura per tutelare i lavoratori coinvolti. Non escludiamo, ha concluso lo popolo, la possibilità di attivare lo stato di agitazione del personale qualora la situazione non si sblocchi tempestivamente. La Fialz salernitana fa sapere che continuerà a monitorare la situazione ed a difendere i diritti del personale del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore, determinata ad ottenere giustizia per tutti i professionisti coinvolti.